Sog, modello Super Bowie, il modello più grande di questa serie, con questa forma di lana. Arriva con un fodero in pelle, con una piccola tasca con una pietra per affilare, in basso troviamo la scritta del costruttore, fodero abbastanza bello e ben fatto. Il modello arriva con una lama nera, una bella finitura lucida, la manicatura è in dischi di cuoio, con due spaziatori bianchi, fondello in acciaio, anch'esso nero, e la guardia anch'essa in acciaio. Da questo dato troviamo il logo del costruttore, la lama ha una forma abbastanza bella, credo che sia chiamata questo modello Geet Nam Bowie. L'impugnatura è sagomata, e anche abbastanza spessa. Diciamo che si impugna abbastanza bene, sia in una maniera che nella reverse mode. L'acciaio utilizzato è Laus 8, lo spessore della lama alla base è circa 6 mm, poi come vedete va decrescendo fino alla punta. Questo qui è soltanto un falso controfilo, perché effettivamente lo spessore è c'è. Il coltello è molto bello e ben fatto. Uno dei modelli più belli, secondo me, della Sog.